Ciao e ben ritrovato con le pillole video dedicate al guru che è in te. Una luce inconsapevole di brillare è proprio un bel bocconcino per l'oscurità. Il compito della luce è brillare, contaminare in positivo quello che è intorno a lei, ma per farlo la luce deve sapere di essere luce, perché se non conosce la sua qualità, se non conosce quello che può fare, è molto probabile che verrà fermata e verrà oscurata prima di portare a termine il suo compito. Sii consapevole della tua luce e falla brillare consapevolmente e allora niente e nessuno potrà spegnerla.